va bene guardi guardi che voi vi siete fermate ma quella era una registrazione sono uno specialista a due milani, mi è messo a dire due milani a cacciare l'utate Tiziana, Raffaele, salutate. Non è una foda da salutare. Non è una foto, sto registrando. Saluto a Bruno. Ciao Bruno, mio cugino Bruno. Ciao Bruno, ti aspettiamo a tolcarlo un caffè. Ma questo che Capodanno se lo vuole fare con noi? Facci con lui a Capodanno. Facci con lui a Capodanno. Ciao. Ciao Bruno.